Netflix propone in modo costante novità e uscite appassionanti così da attirare sempre l'attenzione degli utenti. Una miniserie è disponibile da oggi 26 aprile. Di cosa si tratta? Tra nuove proposte e costanti appuntamenti Netflix, è la piattaforma più amata dagli utenti. Ormai è praticamente impossibile poter fare a meno delle serie diventate famose proprio grazie all'inserimento tra le tante. Avere la possibilità di poter cliccare sempre e in ogni momento l'episodio preferito, rende Netflix una dipendenza per i fan. Tante miniserie hanno in questi anni catturato l'attenzione del pubblico. In molti preferiscono seguire serie brevi e dalla conclusione coincisa. Quelle che hanno però ottenuto maggiore successo in questi anni si dilungano in stagioni intense e molteplici episodi. Un esempio lampante potrebbe essere La casa di carta o anche Vis a Vis. Netflix. Nuova miniserie disponibile da oggi. LA Trama. Nella giornata di oggi 26 aprile, è sbarcata su Netflix una miniserie thriller che di sicuro catturerà l'attenzione degli utenti. Si chiama Asunta e dal trailer, vengono alla luce molti dettagli salienti. Il prodotto ha origini spagnole e da una prima visione sembrerebbe proprio possedere tutte le carte in regola per diventare un grande successo Netflix. La storia è ispirata ad un drammatico episodio realmente accaduto, ovvero la storia di Asunta, una ragazza di 12 anni uccisa dai suoi genitori. Al centro della vicenda Rosario Porto e Alfonso Basterra che all'inizio del racconto denunciano la scomparsa della figlia adolescente. Dopo diverse indagini il corpo viene ritrovato nella periferia di Santiago de Compostela. Dagli indizi della polizia, i colpevoli porterebbero proprio il nome dei genitori, scatenando l'ira dei cittadini. Cosa ha spinto le persone che dovrebbero rappresentare il porto sicuro di Asunta a toglierle la vita? Tra intrighi e verità nascoste la miniserie, lascerà gli utenti con il fiato sospeso. Apparentemente la famiglia è mostrata come un nucleo sereno e ricco d'amore. Quello che si nasconde dietro il quadretto iniziale, ha però a che fare con una verità sconvolgente. Nella realtà i due genitori dopo essere stati scoperti, sono stati condannati a 18 anni di carcere. Il caso ha ad ogni modo attirato l'attenzione mediatica, alimentata dal suicidio della madre durante la detenzione. Asunta porta sul piccolo schermo un racconto da brividi, ancora oggi molto chiacchierato e commentato in Spagna. Questa una delle tante novità disponibili su Netflix. Una scelta appassionante per trascorrere qualche ora in compagnia di un racconto travolgente. Attualità. Colpi di scena e momenti salienti, rendono il prodotto vincente ancor prima della visione concreta. Cosa aspetti ad immergerti negli episodi?